oggi impareremo i simboli maggiore minore e uguale questi simboli servono per esprimere un confronto tra quantità questo simbolo è il simbolo maggiore indica che le caramelle di colore viola sono maggiori delle caramelle di colore rosso questo invece è il simbolo minore minore indica che le caramelle di colore viola sono minori delle caramelle di colore rosso minore vuol dire di meno maggiore vuol dire di più questo infine è il simbolo uguale sta ad indicare in questo caso che le caramelle viola e le caramelle rosse sono uguali in quantità